E' ufficialmente tramontata la corsa del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi alla candidatura alla presidenza della regione Abruzzo per il centrodestra alle elezioni del prossimo 10 febbraio, dopo che il tavolo nazionale nelle scorse settimane ha assegnato a Fratelli d'Italia l'Abruzzo nell'ambito della ripartizione delle regioni al voto nel 2019. Il primo cittadino affidato ad un post su Facebook il suo pensiero di continuare ad amministrare l'Aquila al termine di giorni febbrili di trattative e anche di incontri con il leader nazionale Giorgia Meloni, sua amica personale, in cui Biondi, inserito nella lista dei papabili dal coordinamento regionale, non ha ricevuto il placet da Roma. A pesare sulla decisione è stato anche il veto di Forza Italia, partito secondo cui Biondi deve rimanere a governare l'Aquila, riconquistata da appena 15 mesi. Ringrazio ma vado avanti, scrive sui social network Biondi, la decisione l'ho presa durante la riunione per organizzare i primi passi del decennale del sisma. Ancora tutta da chiarire la dinamica di un episodio che si è verificato questa mattina in piazza Darmi all'Aquila, dove due extracomunitari sarebbero venuti alle mani dopo una lite tra le bancarelle del mercato. Non è chiaro cosa abbia scatenato l'acceso di verbio, fatto sta che i due giovani sarebbero venuti alle mani, mentre alcuni ambulanti sono poi intervenuti, forse per dividerli, prima che gli stessi si allontanassero per vie diverse. Uno dei due, un ragazzo nigeriano, ha riportato una frattura al braccio per cui è stato allertato il 118 per il ricovero in ospedale. L'altro ha fatto perdere le proprie tracce. Condizionale d'obbligo per l'intera vicenda, che al momento ha contorni piuttosto confusi ed è ancora tutta da verificare. Diverse le testimonianze raccolte dagli operatori della polizia giunti sul posto, ma le versioni risultano contrastanti e confuse. Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto. Sul sito della provincia dell'Aquila www.provincia.l'aquila.info è stato pubblicato l'avviso per individuare un'area dove costruire la nuova sede unica dei licei annessi al convitto Cotugno dell'Aquila. Le manifestazioni di interesse di enti pubblici o soggetti privati dovranno pervenire entro il 2 novembre. Per costruire la sede ad uso dei licei classico scienze umane, linguistico e musicale sono stati assegnati dal ministero 13 milioni con delibera Cipe numero 110 del 2017. L'avviso prevede una superficie di almeno 4 ettari nel raggio di 4 chilometri dal centro storico dell'Aquila dotata di buona accessibilità. Poi si partirà con l'appalto di progettazione. Oggi facciamo il punto sul gioco del Burraco nel centro Abruzzo perché ha spento la prima candelina l'associazione Burraco Jolly Popoli che ha festeggiato il primo anniversario la scorsa domenica con un torneo che ha visto circa 150 partecipanti. Ne parleremo tra poco nella rubrica Il Punto. Ciao! 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 Ciao!